Tra le 129 persone che la DDA di Catanzaro ha raggiunto con l'avviso di conclusione delle indagini per l'operazione Glicine, si annoverano ex-presidenti, ex-assessori regionali, sindaci, ex-assessori comunali, dirigenti della Regione Calabria e del Comune di Crotone, nonché carabinieri. L'operazione sospetta l'esistenza di un gruppo stabile e strutturato, promosso, diretto e organizzato da soggetti politici, amministratori pubblici, imprenditori ed intermediari di imprese, al fine di commettere una serie indeterminata e continua di delitti contro la pubblica amministrazione, nell'ambito regionale e crotonese in particolare. Secondo l'accusa, personalità di rilievo della politica calabrese, come Mario Oliverio, presidente della Regione dal 2014 al 2020, eletto col PD ma successivamente allontanatosi dal partito, l'ex-vice-presidente della Giunta Nicola Adamo, l'ex-consigliere regionale Sebi Romeo, entrambi del PD, l'ex-consigliere regionale Vincenzo Sculco, attualmente sottoposta ai domiciliari, e sua figlia Flora. Anche lei, ex-consigliera regionale, sarebbero stati parte di questo gruppo. Tra gli altri coinvolti figurano l'ex-assessore comunale di Crotone, Giancarlo Devona, il sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, ex-assessore regionale, e gli imprenditori Giovanni Mazzei, Raffaele Vrenna e il fratello Gianni, quest'ultimo ex-attuale presidente del Crotone Calcio. L'operazione dei carabinieri, nota come glicine, ha portato all'arresto di 41 persone, di cui 22 in carcere e 12 ai domiciliari, con accuse di associazione mafiose e associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Il numero totale di indagati è salito da 123 a 129, includendo nuove figure come l'imprenditrice Antonella Stasi, ex- presidente della regione facente funzioni, e due carabinieri accusati di accesso illegale alla banca dati. L'accusa sostiene che il gruppo di politici e imprenditori sia riuscito a influenzare l'azione della pubblica amministrazione a proprio vantaggio, condizionando pesantemente e in molti casi illecitamente le scelte relative ad incarichi e finanziamenti. L'accusa di associazione mafiosa è riferita ad un episodio specifico riguardante la giudicazione della fiera mariana di Crotone, coinvolgendo solo Vincenzo sculco tra i politici.